La Polizia di Stato ha effettuato nello scorso fine settimana controlli sul territorio che hanno visto impegnati 54 equipaggi e 108 agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, Sezione Volanti e del Reparto Prevenzione Crimine Basilicata. All'esito delle attività sono stati conseguiti i seguenti risultati. Posti di controllo 68, persone identificate 419, veicoli controllati 270, contravvenzione al codice della strada 10, controlli a persone sottoposte ad obblighi 61 ed una denunciata. Nel corso delle attività venivano segnalati alla Prefettura due giovani in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sottoposto a sequestro per complessivi grammi 5 di cocaina. Inoltre è stato denunciato un giovane extracomunitario per farse generalità irregolare sul territorio nazionale ed avviato presso un centro di identificazione ed espulsione.